Presidente, allora girano tante indiscrizioni sul mercato, quali sono per adesso i colpi che avete messo a segno? Al momento ancora siamo fermi alle trattative, la trattativa migliore è quella più obviata, diciamo quella di Bagnolana, c'è la disponibilità delle parti di arrivare a una posizione rapida di luce. Qualche ruole almeno? Sicuramente se gettiamo la punta, l'attaccante si arrivi, ti serve la causa, insomma. Si parlava di Margaroli e del fumarco? Sì, esatto, abbiamo provato con lui, vediamo cosa non accederà la prossima. Ecco, a proposito di attaccanti, indiscrezioni di stampa danno puzzello per partente? Sì, adesso vediamo cosa decide i ragazzi, come siamo qui, a disposizione di tutti, se vogliamo andare, non possiamo farci più, se vogliamo arrivare, se vogliamo restare più presto. Certo, e per quanto riguarda il portiere, invece? Il portiere è lì, stiamo aspettando la risposta a Goddard, ha l'intenzione di fare, vuole andare, chiaramente nel prossimo ore ci muoveremo più presto, se non abbiamo nessuna risposta, il ragazzo, purtroppo, non so, farà di gestare il poker. Ecco, quindi altri nomi su cui state puntando? Adesso intanto siamo in una ricerca di 2,95 che si vanno ad inserire agli altri nostri ottimi ragazzi che abbiamo nel settore giovanile, di modo che abbiamo un ricambio generazionale, poter proseguire i nostri culturali. Certo, il primo giorno di raduno? Il 5 agosto a Prodolo, il primo giorno di raduno? Perfetto!